Siamo a la stazione di Termoli nella serata del primo maggio con Cristian, un ragazzo romeno di 25 anni che è in Italia dall'età di 14, quindi ormai sono 11 anni e parla la nostra lingua discretamente. Abbiamo trovato, diciamo, qui in stazione tra le persone che vengono assistite dalle associazioni di volontariato che portano i pasti serali, visto che la sera la mensa della Caritas, dove senza fissa dimora il giorno vanno a pranzare, è chiusa. Come ti trovi a Termoli? Da quanto tempo sei qui? Sono tre settimane, mi sto trovando abbastanza bene, perché prima di arrivare qua ero proprio, ero a terra proprio, non sapevo dove andare, che fare. Dove dormi? Dormo in giro per il paese, per strada, dove capita. Hai provato anche a dormire all'Isola Felice della Misericordia? Sì, sì, ho dormito anche lì, per 21 giorni. Quindi diciamo hai soffrito del tempo massimo a disposizione. E adesso ti arrangi? Sì, adesso mi arrangio, cerco di farmi una monotonia, di riprendermi un buco. Come sono questi ragazzi che ti portano da mangiare la sera? Sono delle persone che ci volevano, ma ci vogliono le persone perché danno una compagnia. Ci sono delle persone molto accoglienti che fanno una buona compagnia, che serve la compagnia.